Stavamo bene insieme, il docufilm che potete trovare nei cinema, che potete vedere dal cinema, l'ho visto per voi e adesso ne parliamo. Parliamo partendo ovviamente da un dato di fatto assoluto, cioè che un qualsiasi tifoso del Milan, anche solo di passaggio, cioè anche non un fanatico integralista come la maggior parte di noi, deve guardare questo docufilm. Deve guardarlo perché rappresenta un pezzo della storia della nostra squadra, rappresenta un pezzo importante della storia della nostra squadra, fa riferimento al periodo che va sostanzialmente dall'arrivo di Carlo Ancerotti sulla nostra panchina fino alla conquista della Champions League ad Atene nel 2007. È un pezzo di storia del Milan importante perché racconta attraverso la voce dei protagonisti quello che è non solo un club, ma quello che è un mondo, una pelle quasi mi verrebbe da dire, in una situazione molto distinguibile. Il Milan è un club veramente diverso da tanti altri perché ha saputo costruire non solo una squadra forte, ma anche un ambiente, una mentalità che si è poi portata dietro per tutta la sua storia praticamente, perché come dice Paolo Maldini, che è uno dei protagonisti che ci racconta questa storia insieme a Sandro Nesta, Rino Gattuso, Andrea Pirlo, Massimo Ambrosini a Pippo Enzaghi, Paolo Maldini dice fin dai tempi di mio padre il pubblico era esigente nei confronti dei calciatori. Lo è sempre stato e probabilmente sempre lo sarà. Lo dice anche Sandro Nesta nell'estratto che ho pubblicato questa mattina, dice San Siro, è uno stadio esigente, è uno stadio che richiede un certo livello di performance. Ecco, questo è un dato importante ed è un dato che poi, come dire, inevitabilmente abbraccia i periodi vincenti del Milan e l'abbiamo visto anche nell'ultimo tempo, nell'ultimo periodo di Pioli, quando il Milan ha ricominciato ad essere una squadra propositiva che gioca a pallone con il piacere di farlo e anche con degli interpreti di livello, sono ritornati i risultati ed è ritornato lo scudetto. Quando il Milan si è affidato o all'improvvisazione oppure a sistemi di gioco anche che non appartenevano e non appartengono alla sua storia, le cose non sono andate bene. Questo percorso del Milan nel racconto di Siamo stati bene insieme è fatto soprattutto di momenti, così come mi verrebbe da dire la storia del calcio è fatta di momenti. È fatta di momenti che iniziano da un rigore sbagliato, quello di Pippo Inzaghi con il Torino che porta all'esonero di Fatih Terim e all'arrivo di Carlo Ancelotti, di momenti come un altro gol di Pippo, quello segnato contro l'Ajax e si ripercorrono tutti questi momenti, si ripercorre la storia, l'attesa, vengono raccontati anche degli aneddoti molto divertenti. Parla Adriano Gagliani, parla Carlo Ancelotti che racconta di come si sia in un certo senso inventato il famoso albero di Natale, si sia inventato Pirlo davanti alla difesa, si racconta dell'arrivo di Clarence Sedorf che poi ha scritto la nostra storia ma che all'epoca insomma venne, non dico contestato, ma venne sicuramente visto così con l'occhio un po' strano di un giocatore che arriva dall'Inter. Si racconta tanto e si racconta soprattutto la storia di questo club che come dicevo è un club diverso perché è un club che fa proprio trasparire tutta la sua grandezza, ha fatto trasparire tutta la sua grandezza e tutti noi ci auguriamo possa continuare a farlo perché i giocatori, i campioni che ci raccontano dal centro di San Siro questo pezzo di storia, sottolineano, soprattutto lo fa Sandor Nesta, come il Milan fosse un club al massimi livelli di qualsiasi cosa, dal punto di vista di organizzazione, dal punto di vista di esigenze, da un punto di vista di numero di persone impiegate a seguito della squadra e perché affinché tutto funzionasse, affinché tutto andasse bene, affinché tutto poi potesse come dire risultare vincente perché alla fine questa era la cosa importante. L'aspetto della mentalità è quello che mi ha colpito di più in questo racconto, la mentalità di ragazzi, di una squadra che aveva vinto qualsiasi cosa e che a ogni vittoria, alla fine di ogni vittoria pensava già a quella dopo. Questa è la grande mentalità di una squadra vincente ed è una cosa che noi vediamo ad esempio in questi anni abbiamo visto nel Real Madrid, ci siamo chiesti tante volte come è possibile che campioni, super campioni, super affermati che hanno vinto tutto continuino a farlo e proprio per questa ragione qua, è proprio per un po' anche perché è arrivato Ancelotti che c'entra con la nostra storia, ovviamente racconta anche di un Berlusconi, come dire, piuttosto esigente prima della semifinale di ritorno con l'Inter nella Champions League. E questo è il segreto, il segreto è una squadra innanzitutto formata da uomini di valore, formata da calciatori bravi, formata da tanti elementi, lo dice Maldini e lui adesso la vede anche dall'altro punto di vista, quindi lo vede anche da dietro, lui dice il successo di un club è dato dalla bravura dei giocatori, dalla bravura dell'allenatore, dalla forza della società. Tutti questi elementi devono parlarsi, devono dialogare, devono essere insieme e l'insieme forma, per l'appunto, una grande squadra. Un altro aspetto che mi ha molto colpito e mi è piaciuto è quando Gattuso dice noi non ci rendevamo conto di quanto eravamo forti e paradossalmente la squadra più forte di quel periodo a detta di tutti loro e la squadra più forte che ha giocato una finale preparata da Carlo Ancelotti e a detta di Carlo Ancelotti la finale meglio preparata di tutte è stata proprio quella di Istanbul, è stata quella che non ci ha visto vincere. Però la forza mentale di questa squadra ha permesso di uscire da quello che era diventato veramente un tunnel, era uno psicodramma, Gagliani racconta di come Gattuso volesse a tutti i costi lasciare il Milan e di come lo chiuse per ore e ore nella sala trofei di viaturati, convincendolo poi a rimanere e dicendoli che magari chissà nel giro di qualche anno sarebbe potuta arrivare la rivincita e la rivincita effettivamente arrivò con Atene, in una stagione tra l'altro che come si racconta era partita molto male, c'era stato calciopoli, c'era stata la necessità di fare i preliminari e quindi molti giocatori rientrarono di corsa dalle vacanze, addirittura Pippo Inzaghi insomma racconta l'aneddoto dell'atterraggio in Sardegna e poi praticamente un giro della pista e poi il volo per tornare a Milano, perché c'erano i preliminari da giocare con la Stella Rossa e quella stagione poi fu difficile in campionato, fu difficile anche in Champions perlomeno fino ai quarti di finale, perché negli ottavi eliminavamo il Celtic a fatica nei quarti poi invece un grande doppio confronto col Bayern, una semifinale meravigliosa con il Manchester United e poi la finale di Atene un altro aspetto importante che mi è piaciuto molto è stato quando Nesta ha detto che in Coppa il Milan si trasformava, cioè noi ci abbiamo scherzato un po' su in questi anni con il fatto della musichetta della Champions League e tutte queste storie qui ma è vero, lo raccontano loro, cioè dicono noi in campionato eravamo una squadra forte ma non eravamo così forti come quando la sera scendevamo in campo in quella competizione e cambiava addirittura anche il pubblico, il suono di San Siro dice era diverso e questo ci trascinava e ci aiutava a ottenere i grandi risultati insomma un bellissimo viaggio attraverso i racconti dei protagonisti attraverso delle immagini belle e anche poi drammatiche perché passiamo da Manchester a Istanbul per poi ritornare ad Atene e soprattutto bello perché è raccontato appunto da loro, raccontato da questi uomini che sono stati grandi campioni, che sono stati grandi giocatori, grandi ragazzi grande squadra soprattutto molto emozionante insomma, molto emozionante consiglio a tutti la visione perché veramente è un qualcosa ripeto che un tifoso del Milan deve proprio portarsi dietro e guardare col piacere di rivivere una fase importante della vita a prescindere da quanti anni si abbia adesso perché non importa se uno era piccolo, se uno era grande è una cosa che proprio trasversale va assolutamente rivista e vista, rivista e vissuta stavamo bene insieme, un ottimo ottimo prodotto